Polucci, tornate a criticare la Giunta regionale sulla gestione del piano vaccinale, perché? Perché non c'è un piano vaccinale, altre regioni ce l'hanno, l'Abruzzo questo piano non lo può vedere. Lo stanno scrivendo adesso, all'ultima interpellanza in Consiglio regionale, così mi è stato riferito dall'assessore e quindi dalla Giunta, è quello che noi vogliamo sapere quando riusciremo a raggiungere il target del 70%. Il tema non è solo l'approvvigionamento, l'approvvigionamento è un problema della Commissione europea e del Governo nazionale, ma laddove avessimo anche tutti i vaccini a disposizione, la domanda è quanti vaccini questa regione è in grado di somministrare? La risposta che mi è stata fornita è sostanzialmente dai 3.000 ai 3.500, poiché il 70% della popolazione fa un milione, un milione su un milione e 300 mila, per due dosi sono 2 milioni, se dividiamo 2 milioni di vaccini per 3.000, 3.500 al giorno fanno 700 giorni, ovvero due anni. Mi sembra che qui manchi davvero la capacità di programmare una sfida e un obiettivo così importante. Da ultimo, tanti anziani, le code, si è perso il filo delle priorità, se tu vai a prenotare non ci sono i codici di esenzioni, i fragili e i fragilissimi non sono uguali, anche su questo non c'è un piano in questa regione. Ci sono delle proposte del Partito Democratico? Assolutamente sì, intanto basterebbe prendere un esempio che ci sono in abbondanza, dal piano dell'Emilia Romagna a quello della Campania, da quello della Lombardia a quello del Veneto, in grado di mettere in ordine le priorità per quanto riguarda le persone più fragili della nostra regione. Già solo questo consentirebbe un più ordinato accesso al piano di somministrazione attualmente in atto, non è sufficiente, ma almeno ci sarebbe più ordine. Oggi se tu vai a una persona anziana, a una persona che ha tanti problemi, non capisce qual è l'ordine delle priorità, perché in questa regione non c'è, questo è un fatto gravissimo. Almeno copiamo i piani fatti nel miglior modo possibile, almeno su questo.